Ti mi perdoniamo, madù, ma te penso contro il sole. Io sono bento a mio ma, poti all'argo d'oro. Quest'opera straordinaria del novembre del 1976, di immenso valore storico e culturale, è stata girata nei pressi di Fontanile, una frazione di Carpaso, proprio sopra il paesino di Gloria. Che bella questa nostra splendida valle argentina, che fra memoria e ricordo di un passato oramai scolorito lontano, riesce ad onorarci, emozionarci e ci tramanda, noi che siamo i suoi unici amici fra le sue foglie, i suoi doverosi custodi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.